Sì Presidente, io volevo intervenire in dichiarazione di voto, però è la stessa cosa, posso tranquillamente esprimere qui la mia opinione, innanzitutto ci tengo a precisare che come qualcuno ha detto non c'è nessuna puzza qui, la puzza si sentiva forse precedentemente, questo è un importante provvedimento di ripianificazione che si inserisce in un quadro di indirizzi politici formulati da questa amministrazione con il programma strategico che punta a contenere il consumo del suolo attraverso l'eliminazione dei piani non attuati e a privilegiare il comportamento dei piani già in attuazione e con lo schema di assetto generale dell'anello verde in cui quest'area è riconducibile. Infatti la ripianificazione è volta a destinare l'area a verde pubblico e servizi, servizi pubblici di livello locale, affinché si realizzi la continuità passeggistica ambientale e funzionale tra l'ambito sottoposto a tutela archeologica denominato ad duas laurus e il contesto urbano che è fortemente urbanizzato e densamente abitato. Trattandosi di un ampio spazio libero in un edificato lungo via Dolese si pone come possibile collegamento con uno dei polmoni verdi della capitale. Quindi è un'importante delibera che muove dalla chiara volontà politica di contrastare la manovra di densificazione dei piani di zona ereditata dalle precedenti amministrazioni, come ha detto giustamente l'assessore prima, che era basata su un aumento della popolazione decisamente sovrastinato. Si aggiunge un altro tassello nel percorso di riordino che è finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico e al ripristino della legalità. Per questo noi voteremo assolutamente a favore questa delibera. Grazie.